Questa è una lezione sul mio lavoro da quando sono partito a scrivere il primo libro che si chiama I diavoli, il secondo con Edoardo Nesi che è tutto in frattumi e danza e poi questo ultimo lavoro che ho scritto per l'anno di Teseo che si chiama La fine del tempo e insieme adesso anche la serie tv Davids. Per me raccontare la finanza come strumento politico è stato uno stimolo fortissimo avvalorato anche da quello che insomma sta arrivando anche alle nostre orecchie questi 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 giorni nel senso che dire che la finanza era uno strumento politico anni e anni fa il libro I diavoli asce nel 2015 era una cosa abbastanza poteva risultare abbastanza strana dirlo oggi che la corte costituzionale tedesca ha detto che la banca centrale europea la bce facendo il punto di te visi in cosa che lanciò proprio anni fa sta svolgendo un ruolo politico cioè come a dire la corte costituzionale tedesca sancisce di fatto che la banca centrale è uno strumento politico a tutti gli effetti e fa scelte politiche a tutti gli effetti effettivamente la banca centrale europea ha fatto una scelta politica tutto sommato quella di decidere giustamente di comprare più debito di paesi in maggiori difficoltà come l'italia e la spagna proprio adesso ultimamente rispetto ad altri tipo la germania questo per chiudere gli spread per per facilitare il finanziamento alla i tassi bassi per per facilitare il finanziamento del nostro paese di attingere al mercato di capitali in un momento di grande eh intenzione finanziaria finanza come strumento politico esattamente l'ho detto la corte costituzionale e che cos'è la finanza la finanza io lo chiamo i diavoli i diavoli sono questi monaci guerrieri che entrano a far far parte di un circolo politico e a governare un po' il mondo a governare il mondo come faceva il diavolo di maxwell il diavolo di maxwell era un diavoletto cioè maxwell è un fisico teorico scozzese che sancì eh il secondo principio termodinamica che dice che non tutto eh l'energia tutto non tutto il calore può essere trasformato in energia c'è sempre una dispersione tra calore ed energia e quella dispersione poi è si chiama entropia è è l'essenza della nostra vita maxwell disse sì eh eh tanto è vero il secondo principio della termodinamica che se noi eh dovessimo assumere che non c'è questa dispersione dovremmo presupporre l'esistenza di un diavolo così veloce da mettere ordine nel caos sicché le molecole calde con le calde le fredde con le fredde non generano non generassero alcuna eh alcuna dispersione di calore e così verrebbe eh diciamo eh si avrebbe una sorta di moto perpetuo perché tutta l'energia verrebbe finalmente trasformata in calore ma siccome questo diavolo non esiste allora dobbiamo fare avvalorare il secondo principio della termodinamica perché vi faccio questa cosa noiosissima perché il nome diavoli non è un nome negativo i diavoli sono cattivi ma il nome diavoli con il nome diavoli ho voluto proprio sancire un ruolo di un club eh di monaci guerrieri ma anche centrali, agenzie di rating, grandi investitori, quello che Gallino avrebbe chiamato il club di Davos e questi monaci guerrieri prendono il posto della politica. Questo avviene intorno al tra il duemila otto e il duemila dodici in maniera inerziale non voluta sicuramente questo mutamento non voluto sicuramente dalla finanza ma voluto e cercato certamente dalla politica che non era più in grado di reggere le pressioni di un elettorato diverso che seguiva i consensi e che soprattutto si era svuotata autosvuotata cioè si era auto inflitta la pena di eh far fare al mercato e uscire completamente dall'arena pubblica. Quando avviene questo è quando fallisce una grande banca come la Lehman Brothers in America. Fallisce la banca, con quella ne falliscono altri, gli stati sono costretti a indebitarsi, emettono moltissimo debito, qualcuno quel debito lo deve comprare, una parte viene comprato dalle banche centrali stampando denaro, un'altra parte viene comprato dagli investitori internazionali che diventano in quel momento azionisti o meglio obbligazionisti cioè posseggono il debito degli stati. Ma se ti possiedi il debito dello Stato già cominci a poter chiedere delle cose che normalmente uno che deve avere i soldi da qualcuno chiede, magari risparmia, magari fai dei tagli, magari indirizza la tua politica di investimento da una parte o dall'altra. Qui siamo intorno al 2010, la Lehman fallisce al 2008, però c'è un passaggio ulteriore che sancisce proprio il ed è quello che proprio racconto io nella serie 2011-2012, lo racconto nella serie, lo racconto nei diavoli. C'è un giorno che due signori fanno una passeggiata in una bellissima spiaggia vicino Cannes che si chiama Doville, i signori sono la Merkel e Sarkozy che dicono che la Grecia può fallire di tutto sommato. Cioè che quando dici la Grecia può fallire stai dicendo una cosa molto molto importante senza saperlo questi due signori che probabilmente di politica economica capivano molto poco dicono che praticamente se tu compri dei bond greci potresti non avere indietro tutto quello che ti spetta e allora lì è quel giorno che la finanza diventa esattamente un soggetto politico. Diventa un soggetto politico perché allora io che ho dei bond greci posso fare due cose, devo avere i soldi dal governo greco, posso a venderli, b chiedere al governo greco, visto che mi hanno detto che può fallire, di fare delle riforme, di fare dei tagli alla spesa, di fare dei tagli alla sanità, di intervenire sulle pensioni, di intervenire su appunto di alzare le tasse, cioè divento chiaramente un soggetto politico ma divento un soggetto ancora più politico secondo la definizione di Foucault ma biopolitico perché intervengo direttamente sulla vita delle persone. Cioè la finanza ha un potere biopolitico chiaro dal 2011-2012 in poi e lo tiene anche oggi, guardate oggi come la finanza, quanto è stato profetico insomma quel libro, oggi col coronavirus, chi è che è intervenuto a chiedere di chiudere i mercati? I mercati schessi che sono prollati, le banche centrali hanno stampato una quantità di denaro impressionante, trilioni e trilioni per tenere in piedi un sistema. Oggi tutti ti fiammo per le banche centrali, quelli che io chiamo i diavoli sono le banche centrali, cioè cerco di mettere ordine dove c'è caos, la politica è stata chiaramente soggiogata da sondaggi politici diversi, da un tempo di reazione, attenzione, un tempo di reazione diverso e da vincoli burocratici molto complicati che si sono calcificati negli anni e che non hanno consentito alla politica la giusta capacità di intervento. Fin qua abbiamo raccontato quanto sono stato bravo io e profetico a raccontare la finanza come strumento politico, abbiamo raccontato il passato remoto della Lehman, abbiamo raccontato un passato più vicino che è quello del fallimento della Grecia e poi della crisi di tutti i debiti sovrani e abbiamo raccontato un presente che è il presente del Covid con le banche centrali che sono intervenute a salvare al posto della politica la catena di montaggio mondo, questo enorme mondo, una catena di montaggio unica dove si costruiscono pezzi di tutte le parti. Proprio però perché parliamo di catena di montaggio mondo e si costruiscono pezzi e si assemblano pezzi di tutte le parti del mondo, trovo sia interessante molto di più che darci, che io mi dica qui che sono stato bravo a raccontare questa cosa e magari sono stato bravo anche a farvela capire e spiegarla, trovo che sia interessante fare un percorso più approfondito e cioè perché la finanza è diventata un soggetto politico. Oggi che la finanza è diventata un soggetto politico lo abbiamo raccontato, ce l'abbiamo sotto gli occhi e ogni giorno ne abbiamo una prova. Quando è che la finanza diventa un soggetto politico? Ecco, quell'operazione è un'operazione che merita secondo me un approfondimento interessante e pone le basi su una bomba tra due scuole e culture diverse che esplode intorno agli anni 70, fine anni 60, inizio anni 70. Una è la scuola keynesiana, cioè quella dove lo Stato deve essere presente, ci deve essere un intervento dello Stato nell'economia, investimenti e l'altra una teoria monetarista dove c'è la presenza in monetaristica a scuola di Chicago rispetto a quella dell'MIT di Boston che era più legata a Keynes. La scuola di Chicago negli anni 60-70, questa è una cosa che a me interessa moltissimo, sostanzialmente parte dal concetto che lo Stato dovrebbe mano a mano liberarsi e dovrebbe da essere una sorta di Stato chioccia e dovrebbe lasciare al mercato e mettere il mercato nelle condizioni migliori di proliferare. Questa scuola di Chicago incontra soprattutto le destre forti dei regimi sudamericani e va in Sud America a fare sfacelli, riforme, c'è tutta i cosetti Chicago Boys vanno nel Cile di Pinochet a ristrutturare le economie e con, voglio dire, fortune e sfortune che si avvicendano. Ma la cosa interessante è cosa accade invece nei paesi più importanti quali l'America per esempio o l'Inghilterra. In America arriva Reagan, in Inghilterra arriva la Thatcher e sostanzialmente si impossessano, c'è un abbraccio di queste teorie nella politica di Reagan e soprattutto nella politica di Margaret Thatcher. La Thatcher ricordiamo che fu la donna che disse che non esistono individui, non esiste la società, esistono solo di singoli individui. Quindi la Thatcher devasta il concetto di welfare state e di società, dà una piena fiducia al singolo individuo e sostanzialmente dalla Thatcher in poi il singolo individuo e la singola scelta dell'individuo prevale sullo stato chioccia. Ora, può sembrare folle questo argomento dell'uomo al centro dell'universo, ma in realtà non lo è così tanto, non lo è così tanto perché incontra anche i sogni delle grandi coalizioni di sinistra, nel senso che l'uomo viene messo nelle condizioni di poter decidere tutto, i tassi di interesse vengono molto abbassati perché l'uomo possa arrivare a tutto. Allora cosa succede tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000? Accade una cosa molto particolare, accade che l'uomo grazie a tassi di interesse molto bassi può comprare tutto ciò che desidera ed è qui che si innesta dalla Thatcher, ovviamente il governo di destra alla sinistra diventa invece appunto dilagante questo nuovo concetto di interpretare l'economia, perché anche la sinistra tutto sommato accarezza l'idea dell'uomo che con i tassi bassi si può finalmente comprare una casa facendo un mutuo, dell'uomo prendendo però i soldi a prestito, dell'uomo che con i tassi bassi può pagarsi gli studi chiedendo i soldi in prestito, creando i cosiddetti student loans, dell'uomo che con tassi molto bassi può anche pagarsi una polizza sanitaria, una polizza vita, insomma l'uomo prende i soldi a prestito grazie ai tassi di interesse molto bassi e si compra tutto, abbracciando anche il famoso sogno democratico di Bill Clinton di dare una casa a tutti i cittadini americani. Questo è quello che avviene post Thatcher fino all'entrata del 2000. Nel 2000 il mondo cambia perché arriva la globalizzazione e il capitale viene messo nella condizione migliore di proliferare. Quindi l'uomo perde il lavoro in Occidente perché il lavoro viene utilizzato soprattutto dove costava meno e quindi per esempio in Cina. Le sedi fiscali si spostano nei paesi dove si pagano meno tasse, ma l'uomo non si accorge di questa entrata in realtà a gamba tesa della globalizzazione perché grazie ai tassi di interesse bassi poteva mantenere una qualità di vita persino più alta di prima, non solo, poteva anche comprarsi delle merci a basso costo prodotte magari in Cina che prima non si sarebbe potuto permettere, abbigliamenti, pensate che voi la mattina cosa fate quando vi svegliate? Accedete il cellulare, quindi tecnologia a basso costo, vi vestite, vestiti a basso costo, vi lavate i denti, quindi tutto quello che è diciamo consumers a bassissimo costo perché prodotti con grandi efficientazioni nel mondo del lavoro. Quindi l'uomo non si accorge di questa entrata della globalizzazione strisciante e continua a indebitarsi, se non che poi un giorno nel 2008, e qui ritorniamo proprio all'inizio della mia lezione, fallisce una banca. Fallisce una banca vuol dire che se fallisce una banca falliscono tante banche, l'uomo è indebitato, il lavoro lo aveva tendenzialmente perso e gli stati devono salvare la banca. Quindi tutto questo passaggio di quando la finanza diventa un soggetto politico è un passaggio che pone e tira a dei tiranti, io sono andato a finire nella guerra tra monetarismo e scuola di Chicago e Keynes, MIT, Boston, sono andato a finire alla Thatcher e a Reagan, non ho citato ovviamente il 1989 che è l'anno in cui il secolo secondo qualcuno finisce, il capitalismo ha stravinto e quindi siccome stravince il capitalismo nei successivi dieci anni si cercherà di fare delle riforme tali facendo partire dalla globalizzazione per cui il capitale viene messo nelle condizioni migliori di operare, puoi andare a produrre dove costa meno, mettere i tasse, spostare la sede fiscale dove vuoi. Si abolisce anche una legge che si chiama Glass-Piegel Act che non permetteva alle banche di investimento di fondersi con le banche di deposito, veniva fatta post-crisi del 29, viene abolita da Clinton e quindi le banche di investimento possono levereggiare, possono utilizzare tutti i depositi per prestare i soldi possibili all'economia per tenere quei tassi di interesse bassi, per consentire ai cittadini di prendere le cose in prestito e per dar loro l'occasione di pensare finalmente che sono liberi di decidere loro del loro futuro senza lo Stato. E questa è la favola degli ultimi 40 anni che si spezza con la Liban prima, con gli stati che si indebitano dopo e con una dichiarazione dei due signori su una spiaggia a Doville che dicono che la Grecia può fallire e con un club di persone, i diavoli, che si sobbarcano un ruolo della politica che ormai dall'89 e aveva fatto di tutto per auto azzerarsi e uscire dall'arena, ritirarsi dal campo e soggetti politici che diventano dei finanzieri che un po' per preservare i loro benefici, un po' per il puro gusto di esercizio del potere, boom! Entrano nel mercato e sostanzialmente lo regolano loro stesse. Ecco la costituzione globale del quantità di leasing, cioè di chi stampa moneta e stampando moneta ovviamente impone delle regole, l'austerity, le riforme e le varie leggi che molte volte ci hanno fatto ballare intere maggioranze in Parlamento. Questi li chiamo i diavoli, grazie ai diavoli io ho potuto raccontare questo mondo ma c'è di più, arriviamo proprio al futuro. Tutta questa liquidità enorme immessa nel sistema che ha un effetto cortisonico, quindi non ha un effetto di scelte politiche ma un puro effetto di cortisone monetario perché questo hanno potuto fare le banche centrali e questa assenza cronica della politica ha fatto sciftare completamente il potere prima nelle mani della finanza e poi quando la liquidità ha abbracciato la tecnologia nelle mani della tecnofinanza, cioè questa immensa bolla di liquidità cerca investimenti in tecnologie e queste tecnologie svuotano totalmente l'economia reale nascono delle case in affitto che diventano dei beni di investimento, nel senso tu non ti compri più la casa per andarci a vivere, creare la tua comunità nella tua bolla sociale, una sorta di microcosmo di paese all'interno di ogni città. No, ti compri una casa a Londra perché è un bene di investimento perché poi hai una piattaforma che non paga probabilmente le tasse che ci pensa lei ad affittartela alla casa e a gonfiarla e a sgonfiarla come fosse un materassino nascono delle piattaforme che ti portano il cibo a casa grazie a gente che non ha più diritti civili e soprattutto non ha più, scusate, diritti sociali e quindi vengono bypassati completamente i diritti sociali e algoritmi regolano la vita di gente che pedala per portarti a casa il cibo e ti sembra anche lì di essere più ricco perché puoi avere a domicilio un servizio meraviglioso e nascono poi ovviamente i social media e nascono tutte quelle piattaforme tecnologiche che altro non fanno che estrarre valore e qui torniamo a Luciano Gallino anziché crearlo cioè estraggono valore dall'uomo perché estraggono i dati ovviamente senza dare nulla in cambio estraggono valore dall'uomo perché bypassano diritti sociali dei lavoratori che sono stati centinaia di anni per conquistarceli e estraggono valore dall'uomo perché bypassano anche tutte le regole basilari di diritti dello statuto vero e proprio dei lavoratori andando a creare contrattazioni con gruppi di persone al di fuori dei sindacati e delle unions quindi è proprio al di fuori della contrattazione collettiva ecco tutte queste nuove piattaforme tecnologiche sono il risultato del governo dei diavoli i diavoli dall'altro lato sono arrivati per colpa della politica per colpa di un dibattito teorico di 30, 40, 50 anni fa per colpa di scelte che potevano anche sembrare giuste dare l'opportunità a ognuno di studiare di pagarsi gli studi, di comprarsi una casa di scegliersi la sua polizza sanitaria dare la fiducia che l'uomo da solo insieme a mercati sapesse autoregolamentarsi invece si è creata una legge della giungla da cui oggi non riusciamo a uscire dal governo della finanza siamo passati al governo della tecnofinanza dalle grandi piattaforme che straendo dati capiscono cosa pensiamo e dalle grandi piattaforme che dopo che hanno capito cosa pensiamo riescono a farci pensare quello che vogliono loro incidere sul nostro voto e sulle nostre propensioni al consumo questo è quello che è accaduto e questo è quello che ho cercato di raccontare nei diavoli quando la finanza diventa uno strumento politico della famosa passeggiata della Merkel e Sarkozy che lo sanciscono questo ho cercato di raccontare col libro saggio di Edoardo Nesi perché il diavoli è un romanzo da cui è tratta la serie dove veramente si tocca con mano la finanza come soggetto politico la novità dei diavoli è stata proprio quella cioè raccontare in un romanzo un uomo che parte nel mondo della finanza pagato per fare i soldi a un certo punto si accorge che viene pagato per incidere sulla vita delle persone se lui spinge un pulsante sul suo computer ottiene un risultato sulla vita di una persona e nel mio ultimo lavoro che è uscito a febbraio in pieno coronavirus alla fine del tempo racconto tutta quella enorme massa di liquidità che è servita alla finanza per prendere il controllo di una locomotiva impazzita che andava verso il caos dove solo la legge della giungla contava a quella enorme liquidità se aggiungi la tecnologia arrivi a un vero e proprio dispositivo di controllo invincibile e imbattibile che si chiama tecnofinanza e nella fine del tempo racconto proprio l'arrivo della tecnofinanza la chiusura di un'era con gli stessi personaggi di diavoli che ricostruiscono tutto questo racconto che vi ho fatto e lo riportano al presente e senza spoilerare il libro aprono uno squarcio sul futuro e lo squarcio sul futuro è legato a cercare di capire come la politica potrà uscire da questa gabbia enorme in cui la politica stessa ci ha cacciato dentro a cercare di capire